Il giorno prima della sua morte, quando gli soffrirono dei tartufi, ordinò di conservarli per l'indomani, aggiungendo «seppure mi sarà concesso di mangiarli». Poi, volgendosi verso i più vicini, disse che il giorno seguente la luna si sarebbe tinta di sangue nell'acquario e che si sarebbe verificato un avvenimento di cui tutti avrebbero parlato nell'universo intero. Verso la mezzanotte fu preso da un tale spavento che saltò giù dal suo letto. Verso il mattino ricevette una ruspice inviato dalla Germania che, consultato su un colpo di tuono, aveva predetto un cambiamento di regime. Lo ascoltò e poi lo condannò. Mentre si grattava vigorosamente un foruncolo infiammato che aveva sulla fronte, il sangue si mise a colare ed egli disse «Voglia il cielo che sia tutto qui». Quando chiese l'ora, al posto della quinta, che temeva, gli fu intenzionalmente annunciata la sesta. Rallegrato da queste due circostanze e credendo che il pericolo fosse ormai passato, si affrettò a uscire per la cura del corpo, quando il suo servo di camera lo richiamò alla realtà, annunciandogli che un visitatore che veniva a portare non so che grave notizia e non poteva attendere. Allora, allontanati tutti, si ritirò nella sua camera, dove fu ucciso.